La procura di Locri ha chiuso le indagini preliminari relativa all'indagine denominata Iceberg scattata nel settembre scorso nella Locride. Sono 37 gli indagati dalla procura, in particolare il procuratore Luigi D'Alessio e dal sostituto Marzia Currao che contestano a vario titolo con le modalità differenti diversi reati tra i quali la partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione di delitti contro il patrimonio quali estorsioni, ricettazioni, riciclaggi, furti e truffe in materia ambientale ed in materia anche di stupefacenti aggravati dalle disponibilità di armi. L'inchiesta è scaturita da una complessa attività di indagine che si è sviluppata a partire dal novembre del 2019 realizzata dai carabinieri della stazione di Ardore Marina e Bovalino e coordinata sempre dalla procura. Gli essiti hanno permesso di comprovare l'operatività di un gruppo ritenuto attivo nel territorio Locrideo riconducibile a elementi appartenenti a comunità Rom che sono storicamente radicate sul territorio in posizione ritenuta dagli inquirenti non conflittuale e neanche concorrenziale con la criminalità organizzata. Nell'inchiesta Iceberg sono anche ricostruiti una serie di episodi criminosi importanti che andavano dai furti in abitazione alla ricettazione, dallo spaccio di sostanze stupefacenti alla detenzione abusiva di armi e munizioni e ancora smaltimento illecito di rifiuti alle truffe con sottrazione di mezzi di lavoro e poi ancora riguardanti motoveicoli, ciclomotori e quini anche con la partecipazione di soggetti di età minore e con la disponibilità di armi perpetrati nei comuni di Ardore, Bovalino, Bianco, Brancaleoni, Locri, Marina di Gioiosa, Rocella Ionica, San Luca, Sant'Ilario dello Ionio ed anche a Siderno. Il giro di affari individuato dagli investigatori si aggira intorno a 500.000 euro, una cifra emersa nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede del comando dei carabinieri del gruppo territoriale di Locri dove è anche partecipato il procuratore Luigi D'Alessio che ha evidenziato la presenza di un'organizzazione solida, una vera holding con una serie di attività che si concludevano per lo più con truffe ma anche in detenzione di armi e poi reati di varia natura. Nell'avviso di conclusione e indagini sono indicate in qualità di persone offese 42 soggetti privati e 7 soggetti pubblici compresi i comuni di Ardore, Bovalino, San Luca, Sant'Ilario dello Ionio nonché anche il Ministero dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti.